Farò questo video post partita qui, così, in piedi, senza voglia, senza accendere le luci, senza posizionarmi, senza niente, senza niente, perché, perché, perché lo sapete benissimo, tifo per la Juventus e in questo periodo proprio non ci siamo qui. Magari questo video sarà molto amareggiato per via della fresca partita appena vista, del fresco ricordo che ho in mente, ma ragazzi, questo momento è preoccupante, è un momento passeggero, passerà, crociamo le dita, crociamo le dita perché non possiamo fare altro. Mi piace questo video, cerchiamo di arrivare almeno a mille like, come, non so, premi di consolazione per questa amara serata, riusciamo a scaricare OneFootball, il link lo troviamo qui sotto in descrizione, migliore applicazione per contribuire al mondo del calcio, gratuita, avv. Android. Scusate, 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 non mi piace neanche fare un video in cui sono completamente triste e vi dirò di più, ho visto soltanto il secondo tempo, perché il primo l'ho passato a fare allenamento, ero a giocare a calcio insieme ai miei amici, come tutti i giovedì, mi hanno detto che è stata la fotocampia del primo, se non più brutto, finita addirittura 0-0, nel quale la Juve ha fatto tipo un tiro in porta con un quadrado e il Milan invece ha attaccato di più, ha spento di più. Vi parlerò del secondo, nel quale comunque ad un certo punto addirittura per un regalo di Teo Hernandez riusciamo a ritrovarci per un uomo in più, ve lo chiedo sinceramente, voi l'avete visto questo uomo in più? Perché per quanto mi riguarda non c'è mai stato un uomo in più per la Juventus, non c'è mai stato un uomo in meno per il Milan, la Juventus è iniziato ad attaccare magicamente soltanto dopo il rigore di Cristiano Ronaldo per quel fallo fischiato a Calabria, quel braccio lungo in area di rigore, ma anche lì nasce da un cross, una palla messa in mezzo perché eravamo disperati verso la fine e allora cosa facciamo? Crossiamo verso Ronaldo, uguale, identico il modo che abbiamo fatto gol contro il Napoli, per fortuna che c'è Cristiano Ronaldo in questo momento, è per fortuna, sono veramente felice di aver Cristiano Ronaldo in questo momento perché se non fa gol lui, anche questa sera, torniamo sempre a quel fantastico problema che ci stiamo portando dietro ultimamente, non fa gol nessuno, adesso mi siedo perché inizio ad essere stanco, non sta facendo gol nessuno in questo evento, nessuno di balla non fa più gol, Iguain non fa più gol, chi ha fatto gol nel 2020? De Litt tipo, De Litt è Ronaldo e basta, non mi viene in mente nessun altro, qualcuno sicuramente avrà fatto gol, me lo auguro ma Poca roba, forse Bentancur in Coppa Italia con la Roma, Iguain in Coppa Italia con l'Udinese, era già 2020, ma veramente non stiamo facendo gol, non stiamo facendo gol Mi sembra io di essere tornato indietro a quel momento in cui vi dicevo che i tridenti europei macinano più gol rispetto alla Juve e qualcuno addirittura mi disse Ma no, ma non è vero, non ti devo preoccupare, vedrai che, io vedrò che, io vedrò che, ma in questo momento potremmo affrontare qualsiasi squadra, non addirittura il Milan, non l'Elasuola, ma qualsiasi squadra Probabilmente in questo momento ci sta mettendo in difficoltà, non si tratta neanche più di dire, si è messo in campo con 4-3-3, con 4-3-1-2, deve giocare questo, non deve giocare questo, ah questo qua non mi piace, dovrebbe giocare quell'altro, ma proviamo a girare No, no, perché il calcio è un bello sport, perché anche quelli più scarsi possono battere quelli più forti L'importante è essere concentrati e avere questa, e avere questa, questa qua, in questo momento non ce l'abbiamo E mi piacerebbe capire perché la scorsa stagione, dopo un girone d'andata che abbiamo fatto comunque bene, in cui abbiamo macinato punti su punti Anche questo girone d'andata comunque è andato abbastanza bene, certo, sapevi che si poteva migliorare, però l'attenuante del primo anno di Sarri gliela si può dare Ma perché nell'ultimo anno, quindi stagione 2018-2019, stagione 2019-2020, tutte e due le volte, arrivi a gennaio e ti muore la squadra Io voglio capire che cosa è cambiato, abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo cambiato lo staff tecnico, abbiamo cambiato alcuni giocatori E allora cosa vuol dire? Che ci sono alcuni giocatori all'interno della squadra che a un certo punto decidono di non far andare più bene la squadra arrivati a questo punto dell'anno Mi viene da dire che è così, mi viene da dire che c'è qualcuno all'interno della rosa che crea malumore Perché in questo momento è evidente ragazzi, c'è del malumore Napoli, Fiorentina, Hellas, Milan, quattro partite Scemo io che con la Fiorentina vi ho detto abbiamo trovato finalmente la configurazione, il 4-3-3, questi giocatori La Glascosta muore subito, come sempre muore subito la Glascosta, non ce ne va bene una comunque Muore la Glascosta, dobbiamo fare comunque di necessità virtù e fare a meno di lui E la squadra smette di girare Io mi auguro veramente che possa ritornare a girare correttamente In Serie A non possiamo più permetterci di perdere punti per strada Oppure sì, possiamo perdere punti per strada ma rischiamo di veramente di perdere lo scudetto A fine anno bisognerà veramente fare un discorso grande e cercare di capire perché arrivati a questo punto A gennaio, febbraio, un piccolo blackout Bisognerà capire perché, perché se l'anno scorso lo scudetto l'hai vinto lo stesso Hai fatto la figuraccia in Champions con l'Atletico, poi hai rimediato E poi hai fatto comunque la figuraccia con l'Ajax E quest'anno come rischi la figuraccia con l'Ione? La vogliamo fare davvero? Io mi auguro di no Ripeto, magari questo video domani lo riguarda che cazzo ho detto o esagerato Ma in questo momento sono molto amareggiato Quindi vi dico povera Juventus, povera Juventus E anche stasera se non ci fischiano il rigore Non facciamo gol Non facciamo gol Con questa squadra, questi giocatori, questo bindidio offensivo che abbiamo Non facciamo gol Ripeto, sono un po' amareggiato Quindi domani cercherò di mettere insieme i pensieri in maniera più ordinata E provo a portarvi un video diverso da questo Per il quale comunque già mi scuso perché lo so benissimo me ne pentirò Ma sto parlando a cuore aperto In questo momento l'ambiente non è sano Perché ogni cosa che dice quel povero uomo di Sarri Non va bene, non va bene Allora vuol dire che all'interno dell'ambiente qualcosa non sta funzionando In campo non si sta funzionando Voglio capire in allenamento cosa sta succedendo Voglio capire in conferenza stampa Scusate, nella cena Agnelli Cosa ha detto a Sarri Cioè in questo momento veramente c'è qualcosa che non sta andando E bisogna capire dov'è E voglio capire se non è la stessa cosa che non è data l'anno scorso Opinioni, la vostra opinione qui sotto nei commenti Spengo e provo ad andare a vedere cosa dica nel post partita Ma veramente sono... Boh Boh